Carissimi fratelli e sorelle, oggi commentiamo la prima lettura della prossima domenica 29 marzo, che è la quinta domenica di quaresima, anno A. Il testo è tratto dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 37, dal versetto 12 al versetto 14. Profetizza e annuncia loro, così dice il Signore Dio, ecco io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe, e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete, farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò, oracolo del Signore Dio. Benissimo, questo brano si trova appunto in questo capitolo 37, che nei versetti precedenti parla di questa visione che ha il profeta Ezechiele, di una pianura sterminata piena di ossa. Il Signore chiede al profeta se queste ossa potranno rivivere, in un secondo tempo gli dice di profetizzare, e vede che queste ossa iniziano a accostarsi le une alle altre, ma manca lo spirito. Allora viene profetizzato e invocato lo spirito di Dio, e anche lo spirito rientra in loro, in queste ossa che si sono riunite, la carne è cresciuta su di esse. Ecco, dice il Signore al profeta che questa è un'immagine di quello che sta succedendo con il popolo, che spesso dice che la loro speranza è svanita. Il popolo si trovava in una situazione in cui poteva sembrare molto difficile sperare, perché si trovava nell'esilio in terra babilonese. Anche noi ci troviamo in una situazione in cui ci sembra molto spesso difficile sperare, perché il mondo va male per questa emergenza legata la pandemia che stiamo vivendo, per tante situazioni personali. Ebbene, il Signore fa presente che esiste una speranza, non solo una speranza di fronte ai nostri problemi, non solo per gli israeliti una speranza di poter ritornare nel loro paese, ma una speranza che è talmente forte che va anche oltre la morte, una speranza più forte della morte stessa. Il ritorno di Israele, dalla terra d'esilio, si profila, secondo la testimonianza dei profeti, come una nuova vita, come una risurrezione. Ecco, anche per noi, nel prepararci a questa Pasqua, si profila per noi una risurrezione, sicuramente nel celebrare la morte e la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, ma per la nostra vita personale, perché questa nostra risurrezione non è solamente un fatto storico, ma è anche una realtà che vuole trasformare la nostra vita. Una vita in cui ci sentiamo aridi, può darsi, in molte situazioni. Una vita in cui vediamo che la nostra speranza non viene compresa, non viene in certo modo avallata dai fatti che vediamo dinanzi a noi. E allora il Signore promette che nel suo spirito ci sarà una nuova vita. Grazie al suo spirito c'è la risurrezione. E quindi questa lettura sta invitando il popolo, il popolo, ecco, il popolo a poter riconoscere di trovarsi molto spesso in una situazione come morti, rinchiusi, chiusi in loro stessi come se fossero dentro i sepolchi. Lo stesso il Signore sta dicendo a noi. È vero, ci troviamo molto spesso nei sepolcri della nostra disperazione, ma a lui nel farci vedere che è vero che questa è la nostra situazione, allo stesso modo desidera, farci uscire. Il potere di Dio è talmente grande che può farci superare ogni nostra disperazione, perché il Dio è Dio di promessa. Quando tutto sembra perduto, lui apre una storia ancora più grande, ancora più bella. Il popolo di Israele ha conosciuto, a partire dall'esilio, un nuovo modo più vero di entrare in rapporto con il Signore, un nuovo modo di essere popolo di Dio, di essere comunità che cammina verso il Signore. Ebbene, il Signore promette che nel suo spirito è possibile, che quindi vale la pena di credere nella sua promessa, perché? Perché lui è in grado di donarci, nonostante le difficoltà, le tribolazioni della nostra vita, della storia passata, del momento presente, è in grado di aprire di fronte a noi una storia nuova. Anche quando a noi non sembrano possibili neppure i presupposti di questa storia nuova, Dio è quel Signore che sa trarre anche dal male un bene più grande. Dio è il Dio di Gesù Cristo che dalla morte è risorto. E quindi anche noi siamo chiamati a vivere in questa speranza che è fondata sul potere di Dio, sulla presenza dello Spirito in noi, perché questo rinnovamento che si chiama risurrezione è un rinnovamento anche interiore, nel modo che abbiamo noi di vedere e di concepire la nostra vita, nel fatto che abiti in noi proprio quello Spirito di Dio, quello Spirito che è creatore, che è rinnovatore, quello Spirito che è amore, che ci fa sentire amati e che ci testimonia che siamo amati. Lo Spirito che Cristo poi rivelerà in una forma più compiuta essere Spirito di figliolanza, che ci fa figli di Dio. E questo ci pone di fronte a poter riconoscere, è vero Signore, tante volte noi viviamo nella morte, nella morte della paura, nella morte del peccato e, come dicevo prima, nella morte della disperazione. E cosa promette il Signore? Il Signore promette che possiamo trovare la nostra terra, che non è più semplicemente una terra fisica, ma è un regno nuovo, una dimensione nuova che è nostra, ma è allo stesso tempo la promessa di Dio, un essere veramente noi stessi, ma l'essere allo stesso tempo veramente di Gesù Cristo. Queste due realtà non sono opposte, ma si possono davvero unire, grazie allo Spirito di Dio. E poter riposare. Noi ci sentiamo tanto stanchi, ci sentiamo così logorati per tante situazioni negative. Il Signore fa questa profezia nella risurrezione che lui viene a operare in mezzo al suo popolo, che pur si trova nella disperazione, lui dà una parola più grande di quella che è l'aspettativa del popolo. È possibile ritrovare un riposo, è possibile ritrovare un ristoro, anche quando sembra impossibile che questa fatica sembra avere sempre la meglio di noi, sembra sovrastarci, sembra che sia l'ultima parola. E questo è basato sulla fedeltà della promessa di Dio. E questa esperienza di risurrezione che il Signore ha compiuto in Gesù, che il Signore ha già compiuto in tante situazioni con noi, tutte le volte che ci ha risollevato, illuminato, ravvivato in noi la speranza, ci ha fatto donare il suo spirito, ma un'esperienza che ancora si vuole rinnovare per noi e per tutta la Chiesa in questo tempo è un'esperienza che conduce a una conoscenza. Quale conoscenza? La conoscenza che Dio è Signore, è potente, è forte, è il più forte, ha potere su tutto quello che è male. Certo che noi lo sappiamo in una forma intellettuale, anche di conoscenza della Sagra Scrittura e delle verità del Catechismo, ma questa conoscenza vuole venire in noi come un frutto di un'esperienza più grande e più forte, di una conoscenza che ci sostenga nel momento della prova, nel momento in cui umanamente sembrerebbe tutto perduto, Lui è il Signore, Lui è il Dio della vita, Lui è più forte di tutto quello che sembra essere inesorabilmente schiacciante verso di noi. E allora cerchiamo nel meditare questa parola, cerchiamo di ritrovare le ragioni della speranza, non a partire semplicemente dai nostri ragionamenti o dalle nostre aspettative, ma a partire dal Signore, da riconoscere il suo amore e da riconoscere la sua grande fedeltà che ha un potere, il potere di ridare la vita anche quando tutto sembra perduto.